Buongiorno a Beatrice con la sua sigla Cosa? Ti trasporta, ti compogge, ti si accende il cuore Canta con Beatrice, ti spende il suo cinto Canta con Beatrice, ti spende il suo cinto Ehi Beatrice, preco il ritmo e te scherzano Tu, musica nuova da sconare Fabio Ascolta, è tempo di imparare Hai capito, Fabio Ascolta, è tempo di imparare Comunque, va bene, dura più la sigla che il suo intervento Buongiorno Beatrice Buongiorno Ci porti a... ma poi c'è un testo completamente inutile Questo tuo jingle Parli come se l'avessi fatto io L'ha fatto la I, l'ha fatto la I L'ha fatto la I dietro nostre indicazioni Esatto Mi ha spiegato chi eri e poi la I ha fatto Però è carino, è orecchiale Fabio Ascolta, è tempo di imparare E quindi io sono qui per imparare, dice il tuo jingle Che si autonomi, l'altra parentesi Hai notato che dice Ascolta il suo jingle Si autocita Comunque, Beatrice, allora Io ho questo problema Nel senso che faccio niente fatica a comprendere un po' la vostra musica A seguire i vostri idoli e beniamini E quindi ho chiesto l'aiuto da casa O meglio dalla redazione, cioè da te Tra l'altro io parlo come se fossi la rappresentante di tutta la Gen Z Ma non hai detto che tutta la Gen Z ascolti No, no, da oggi abbiamo fatto ambasciatrici della Gen Z per noi Ok, va bene Va bene, è così In realtà so che, no, in realtà devo dire A nord del vero che ascolti anche della bella musica Però no Grazie, grazie Scusa, facciamo un test ad esempio Cioè l'artista che adesso, la Gen Z ascolta Proprio che dice Beh, non puoi non ascoltarlo Chi è? Uno Edi, varia un po' dai generi più che altro Non so, due o tre generi Sui generis Chi è che c'è? Allora, se parliamo magari un po' di indie Ci sono Franco 126, Calcutta Per me è una macchina È la Fiat 126 per me Quindi non so cosa sia Franco 126 Ma no Va bene, Calcutta lo conosco Ma Calcutta lo conosco Calcutta è un po' un idolo di quelli indie comunque Un po' meno indie ormai anche lui No, no, è proprio secondo me Indie è anche famoso anche di Fondi Così indie che ha fatto il giro completo, perfetto Ma invece non so Perché poi anche i generi Perché io so indie e trap Ma c'è altro poi? Non so Eh, c'è il pop Ah, c'è il pop Il pop Chi è che ascoltate? È tipo Fred De Palma Fa un po' pop Allora, so che ha fatto Sanremo Mi fermo lì Io non l'ascolto Ah, vedi, vedi Invece sulla trap che abbiamo al momento? Qual è l'ascoltio? Trap, un pochino Eh, perché un po' Ricordiamo sempre che sei di Città Studi Quindi insomma È divertente Comunque arrivi dalla zona di là È Lambrate, Città Studi C'è State of Mind Quindi comunque Esatto E dipende C'è quella un po' più aggressiva Aggressiva? È ad esempio Tutti quei personaggi Simbala Roo Tutti questi reperini Ah, quelli sono di qua Mi sa Sono della mia zona Oh bro, sono della mia zona Sono della mia zona, bro E poi ci sono quelli un po' più famosi Un po' gli OGs Cioè gli Originals OGs? OGs Che sono magari Oggi vuol dire Originals Ah, non puoi dire Originals? Eh, nella scena Ah, OGs, va bene E chi sono gli OGs? Eh, sono quelli grossi Quindi Tony F Quindi Gali Capito? Tony F è quello grosso, capito? E diciamo Nell'area rap trap Anna Pepe Anna Pepe Beh, Anna Pepe ne faremo una puntata Te lo dico Cioè Anna Pepe Abbiamo avuto le richieste Per fare una puntata Solo su quella Diciamo Quindi nel senso Perché Anna Pepe Che tra parenti Io conoscevo con il nome di Anna E basta Poi a un certo punto Gli è arrivato il Pepe in più Non ho capito perché Anna si è sempre chiamata Io quando faceva bando Ho sempre chiamata Anna e basta Quindi vabbè E perché lei dice Ehi, Anna E non dice Anna Pepe E infatti Invece scusa Scusa Anna adesso Va bene tutto Impara da Baby K Che invece dice Ehi, Baby K Lo dice Ehi, Baby E basta Scusa Impara nome e cognome Presentati Cioè non ci conosciamo Avrebbe più senso Piacere Fabio Ranfi Cioè gli rispondo io Comunque Oggi ci hai portato una canzone C'hai portato Faccio fatica solo a capire Chi l'ha fatta già Ci sono 18 cose Non si capisce chi canta Allora no Sono tre nomi Tre Allora Night Skinny Che è il producer Famosissimo Che non conosce L'irreprensibile Night Skinny Chi non lo conosce Ha fatto un sacco di album Molto molto belli A livello musicale Come ad esempio Mattoni Mattoni E' un altro album Pensate voi Vogliamo veramente alti Poi dopo Night Skinny Poi Night Narcos Ma è famosissimo Night Narcos Lui e Gue Sono due rapper Abbastanza vecchi Perché hanno 44 43 Vecchi Per la scena Old school Esatto Un po' più old school Un po' più crudi Di solito In modo che hanno di fare rap Poi c'è Gue Che è anche Gue Che ha perso il cognome Invece lui Perché lo conosciamo Come Gue Pechegno E adesso sono Gue A differenza di Anna Peppe Che se l'ha aggiunto Lui se l'ha tolto A volte mette A volte toglie Quindi Night Skinny Night Narcos E Gue In tre Per fare un capolavoro Allora Non è definibile Magari capolavoro Però è una bella canzone Di quest'album Che è nuovo Perché è uscito Due settimane fa Secondo me è molto carina La canzone è Mio padre Mio padre E quindi adesso ci andiamo a ascoltare Due minuti e venti E poi ci dite Cosa ne pensate anche voi Ma soprattutto me la spieghi Io ho bisogno Dello spiegone di questa canzone Perché so già che capirò La metà di quello che dicono No non è detto No non è detto Va bene E allora Night Skinny Night Narcos E Gue con Mio padre Night Skinny Night Narcos Gue con Mio padre Sentila così Insomma abbastanza Comprensibile Fino a un certo punto In realtà Nel senso Ho capito Beh è dedicata al padre Credo che non c'è più Così a naso Mi verrebbe da dire E poi fa delle similitudini Tra lui e suo padre Cioè moltamente Perché sono cresciuti Spiegiamola tu Perché appunto Voglio arrivare a capire bene Subito il ritornello Ci sei andato vicino Ci sei andato vicinissimo Allora Sul fatto che entrambi i genitori dei due rapper in questione non ci sono più Cioè il padre di entrambi non c'è più Si capisce C'è una sorta di similitudine però doppia Perché se tu ci fai caso Nella prima strofa c'è quella di Night Narcos L'immagine del padre Night Narcos Situazione familiare Lui è nato a Modica Quindi papà del sud Papà che porta il pane a casa Papà che è visto anche quasi come una figura Il capo insomma della famiglia Come c'è in tutte un po' Le credenze del sud Quindi il rispetto per la figura paterna Il fatto di essere come lui Che si sacrifica C'è anche Viene menzionata anche una dimensione un po' Sacrale attorno al padre Viene menzionato Cristo Come uno che si sacrifica Ok Invece Guè Dall'altra parte Cioè l'altro Fa un altro discorso sul padre Cioè dice Non voglio fare gli stessi errori Che ha fatto lui Dice Ho fatto piangere mia mamma Come mio padre Ho paura di non essere un buon padre Quindi ci sono due esempi di rapporti Patè Figlio padre Che sono molto diversi Insomma Entrambi un po' Un po' duri Un po' dovuti Forse Tra virgolette Perché In uno c'è un po' Quasi la paura Per il rispetto del padre Che è la figura Che non può essere Sormontata da nessun altro Non si mette in discussione Per noi Il narcos Non si mette in discussione Il padre Esatto Esatto Mentre invece per Guè C'è anche la figura del padre Che non ha dato magari Ciò che aspettavi ti desse E quindi tu ti ritrovi un po' perso Il ritornello Se fosse stato un buon figlio Quando tu eri in vita Non avrei svoltato la mia vita Esatto Che è una frase molto ermetica Eh infatti Non si capisce da che parte vuole andare Ripete Solo questo Ma non è molto esplicativa Potrebbe essere Se fosse stato un buon figlio Quando tu eri in vita Non avrei fatto questa Figata di vita Che faccio adesso Però potrebbe sembrare anche Esatto Oppure invece non avrei fatto gli errori Se la svolta viene concepita come gli errori Non so Non è facilissimo da comprendere Esatto Allora io non ho trovato spiegazioni Che venissero proprio da loro tre Che hanno scritto il testo Cioè la canzone Però io l'ho interpretata più Nel primo modo In cui l'hai detta Cioè Spesso il conflitto Che si ha Con i genitori Riguardante anche La vita dei figli stessi Porta a Allontanamenti Porta a degli scontri E non è detto che però Seguire A regola d'arte Ciò che i genitori ti dicono Soprattutto sulla vita Che è la tua Ti renda poi effettivamente felice O ti porti a fare Quello che vuoi fare davvero Quindi io l'ho interpretata Come un Se io ti avessi dato ascolto Avessi fatto quello che volevi Tu per me Nella mia vita Non avrei la vita che ora Non avrei svoltato la mia vita Perché Cioè come dire Il grande scrittore Il grande poeta Nasce dal Dal disagio interno Interiore Se non sono uno Che dentro Gli bolle Chissà cosa E vivo la vita serena Non potrei fare l'artista Ad esempio il padre Di Guepechenio Era un Un giurista E scriveva Cioè faceva anche testi editoriali Cioè tutt'altra roba Rispetto a quella che fa suo figlio Quindi Mentre invece il papà Di Noiz Narcos Non c'è scritto su internet La professione precisa Però Però Comunque Bene Allora abbiamo capito Forse qualcosa in più E sono contento Di averlo capito Questa canzone Sarà un successo Secondo te adesso Secondo me Lo è già Lo è già Lo è già Lo è già Da due settimane L'album Ed è una di quelle Che va un po' di più Proprio perché In tutto l'album È quella con il carattere Un po' più Introspettivo Se vogliamo Un po' più profondo Di significato Mentre le altre Sono le classiche Canzoni Un po' trap Un po' cattive Dove parlano Di droga Interessante Interessante appunto Vedere questo Quindi che insomma Non è solo Quella roba lì Il trap Come dici tu Esatto Per questo l'ho portata Perché è sempre carino Vedere come In un genere Ci siano Più sfaccettature diverse Più argomenti Che possono essere trattati Musicalmente Nello stesso modo Giusto Bene Allora Se vi è piaciuto Appuntamento L'uomo di prossimo Con un'altra canzone Sai già cosa Vorrei portarmi Forse sì Però Forse sì No spoiler Non spoiler Vediamo appunto Che cosa ci porterà Settimana prossima Beatrice Beatrice Vuoi sentire Di nuovo l'autosigla Vi chiediamo Con l'autosigla Questo capolavoro Che abbiamo fatto Grazie alla I Insomma Quello che abbiamo pagato Ascoltiamocela Insomma Grazie mille Beatrice Porta ovunque Porta ovunque Risplende in questo studio Rendono cosa però Si accende il cuore Si accende il cuore Canta con Beatrice Risplende il suo jingle Canta con Beatrice Risplende il suo jingle Ehi Beatrice Precco il ritmo La freschezza La musica nuova Da esplorare Vanno forse A tempo Di imparare Questa è Beatrice Grazie mille